benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV sul canale 17 sono le 7 e 34 minuti questa è la diretta allora buongiorno e cominciamo subito dal santo del giorno oggi è Sant'Anselmo d'Aosta un vescovo che è nato nel 1033 il sole è sorto alle 6 e 14 tramonterà le 19 e 59 il tempo ancora oggi tiene domani vedrete invece come cambia eccolo qua stamattina era freddo 7 gradi alle 7 del mattino dicevo domani cambia il tempo avremo rovesci sparsi a preverente carattere di rovescio appunto temporale in esaurimento nel corso del pomeriggio temperature stazionare quelle minime in aumento quelle massime ma anche sabato vedete 23 non è che sia un granché questo questo giorno questo tempo perché avremo ancora precipitazioni debole sparse localmente a carattere di rovescio in attenuazione dalla serata le temperature in ulteriore lieve diminuzione i venti sono di brezza teso vento moderato probabile ingresso di una saccatura di aria artica marittima nella giornata di domenica con conseguente tempo instabile sulla regione dunque è in bilico e a rischio sicuramente dal punto di vista meteorologico il ponte del 25 aprile quello domenica e lunedì insomma cominciamo dalla cronaca una notizia che è in esclusiva il resto del Carlino una notizia una tragedia che si è consumata ieri in centro a Fano stiamo parlando di questa signora Maria Grazia Giulini moglie di Mario Pagnoni la conoscono in tanti così come conoscono tantissime persone Mario Pagnoni che ha l'agenzia di distribuzione dei giornali questa donna aveva 64 anni dopo pranzo era andata in terrazzo per godersi il sole il marito l'ha trovata intorno alle 3 del pomeriggio riversa a terra si è affacciato dalla finestra della loro casa in via Froncini a Fano e ha chiesto disperatamente aiuto una vicina è corsa in suo aiuto chiamando il 118 ma quando sono arrivati i sanitari purtroppo era già tardi la donna era già morta il marito la trova appunto senza vita disposta all'autopsia alla tragedia di Maria Grazia Giulini scrive il quotidiano questa mattina sulla pagina di Fano sull'Isippo invece l'altra notizia che troverete su tutti e tre i quotidiani il caso dell'Isippo prima udienza del processo per riavere la statua dal Ghetti una prassi criminale duro attacco dell'avvocato dello Stato sulla condotta del museo statunitense la battaglia la difesa si oppone alla confisca nessuna dicono restituzione all'Italia insomma vanno giù duro quelli del Ghetti Museum di Malibu che si trova in California che non riconsegnerà all'Italia l'atleta vittorioso ossia l'Isippo del IV secolo a.C. comprato nel 1978 per 4 milioni di dollari e lo ha detto appunto ieri mattina l'avvocato del museo Gaeto la pagina principale invece del resto del Carlino è sulla fiction che si sta preparando sulla storia di Lucia Annibali la donna, l'avvocatessa sfregiata dall'acido io ci sono, questo sarà credo il titolo della produzione la fiction dell'acido con Cristina Capotondi che è l'attrice che interpreterà probabilmente Lucia Annibali che invece eccola qua la protagonista reale da fine maggio si girerà a Pesaro la serie Rai su questo terribile agguato poi sopra vedete una sola galleria per la Alaguinza così si farà tutta la strada sulla Fano Grosseto sorpresa al Ministero ma si modifica ancora il tracciato questa è la pagina principale del quotidiano bolognese poi le pagine interne torniamo su Fano e Valle del Cesano Talè, il consigliere regionale entro ottobre il nuovo ponte appalto aggiudicato 3 milioni pronti serve il progetto della ditta a distanza di 5 anni stiamo parlando di Mondavia a distanza di 5 anni dal crollo la ricostruzione dunque è vicina il collegamento provvisorio non è percorribile dai mezzi pesanti ed è ad una sola corsia molti servizi utili invece a Orciano utili milionari ma la buca si fa riferimento chiaramente vedete a questa voragine che ancora sta lì Gita quella con il pullman stiamo parlando degli alunni che hanno dovuto cambiare due autobus prima di prendere quello giusto cioè il terzo e quindi andare a Bologna in Gita Gita un pullman con le gomme lisce il preside è fatto il necessario la dirigenza della scuola contesta le accuse delle mamme martedì scorso la polizia stradale ha bloccato due mezzi ritenuti inadeguati al trasporto dei ragazzi arriva la presidente della Camera Boldrini a Fano ai raggi X il teatro della fortuna sopra il luogo dell'ufficio di presidenza della Camera la Boldrini sarà è attesa dalle 16.30 di domani in piazza dove poi andrà ovviamente all'interno del teatro dove festeggerà i 25 anni della città delle bambine e dei bambini ancora dalla pagina del di Pesaro eccola qua e qui chiaramente oggi era attesa la replica del sindaco di Pesaro Matteo Ricci che risponde alle accuse di Amerigo Varotti lanciate ieri sempre dallo stesso quotidiano mi chiedo cosa abbia fatto Varotti per il turismo in 20 anni di viaggi il sindaco replica al direttore della Confcommercio e lo accusa di fare solo politica Matteo Ricci non molla sarebbe interessante fare un parallelo sui risultati di visibilità e promozione turistica di questo nostro anno e mezzo ed i suoi è uno scontro personalistico mi attacca ogni volta che torna dall'estero noi diamo occasione di lavoro ai giovani poi per quanto riguarda la Coppa Davis invece è prevista un'invasione di giornalisti dall'Argentina approva l'ITF approva il progetto ma con spazi stampa più grandi ormai gli internazionali di tennis sono un dato di fatto e dunque si sta mettendo in moto tutta la macchina organizzativa adesso andiamo sulla prima pagina andiamo a vedere la pagina del Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro e Fano questa è la prima pagina si parla di sanità e appalti scoppia lo scandalo associazioni a delinquere e truffa blitz della finanza tra i nove indagati Cicarelli Carelli e Capocasa poi sotto il dregaggio al porto di Pesaro eccola qua dregaggio banchine e nuova illuminazione Ricci e Capuzzimato illustrano i lavori nella parte vecchia dello scalo resterà un porto commerciale poi sugli scarichi a mare delle piattaforme elementi radioattivi citati nello studio Ispra la Capitaneria convocherà gli autori del video che poi è stato trasmesso da Piazza Pulita lo ricordiamo sulla 7 qualche giorno fa da Fano invece Polo Holding fallisce un modello in crisi gli affidamenti deteriorati per 61 milioni hanno contribuito alla dissesto del gruppo Banca Marche la lottizzazione Fano Alta quella di Gimarra è un ecomostro un ecomostro incompiuto oppure il quartiere di San Martino la piscina invece resta un sogno la parabola della società segna il declino di un piano regolatore generale che concepisce lo sviluppo in termini volumetrici nel bilancio 2014 scrive ancora il giornale una maxiperdita per oltre 59 milioni di euro Nencini conferma invece la Fano Grosseto sarà conclusa nel 2021 il vice ministro alle infrastrutture ha incontrato a Roma la senatrice Fabri e i rappresentanti della regione Marche Umbria e Toscana breve l'adeguamento della viabilità esistente poi avvia il cantiere principale con l'apertura della Guinza sotto no a Fosso Segiore e Project Financing aderisce pure il forum per i beni comuni andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico questa volta apriamo quella di Fano e di Fano la seconda pagina di Fano l'Isippo il Ghetti cita tre testimoni morti offensiva dell'avvocato del museo contro la confisca e le parti civili il PM Cecchi durissima dice è in malafede la maggior parte degli altri nove convocati è all'estero e spunta un indagato chiave di un'inchiesta del 2009 misure di sicurezza straordinarie anche qui per Laura Boldrini sigillati Tombini e Cassonetti per la visita di domani alle 16.30 il convegno in teatro sulla città dei bambini poi cena con i fanesi al pesce azzurro muore in casa per una caduta la tragedia in centro in quel momento la donna era sola l'allarme è stato lanciato dal marito al suo rientro inutili soccorsi dunque io parlavo di un'esclusiva in realtà come avete visto c'è la notizia anche sul Corriere Adriatico tanti testimonial per l'associazione fanese che si occupa di aiuti in Africa l'Africa Chiama il sostegno di Ambrosini di Covatta Grimaldi per la campagna 45502 che è il numero se volete di telefono al quale inviare sms per fare una donazione ponte dell'acqua santa ecco l'aggiudicamento dei lavori per l'opera di ripristino disponibile lo stanziamento della regione di 3.150.000 euro l'ha reso noto il consigliere Talè entro ottobre la sostituzione del Beli il ponte provvisorio che unisce Mondavio e Corinaldo sempre dal Corriere Adriatico Saltara gomme pericolosamente usurate Pullman fuori legge la stradale conferma i disagi ma il preside si arrabbia con i genitori soprattutto per alcune parole che sono uscite ma si possono anche comprendere insomma quando ci sono di mezzo i figli e i bambini piccoli insomma il cuore di mamma soprattutto si fa sentire bambino punto da una zecca in classe paura per un alunno delle elementari i puccini ospitate nel seminario l'Asur dice questa zecca è stata portata da un piccione il parassita non è entrato sotto la pelle ma l'episodio ha spaventato anche i compagni di classe l'aula dove si è verificato questo incidente è al terzo piano dove un tempo c'erano gli uffici dell'Asur dell'USL poi ancora andiamo sul siamo in chiusura andiamo sul messaggero la pagina principale di Pesaro è su banca delle marche un fondo risarcimenti vecchia nuova banca marca e parti civili contro Bianconi ai clienti le somme recuperate escluse le fondazioni Cari Pesaro e Carisi i legali dell'ex DG non diventerà un capro espiatorio poi sotto al centro pagina la fotografia del porto dove finalmente a Pesaro si parte con il dragaggio e poi fanne sopra luoghi per la Coppa Davis gli osservatori in città a Pesaro per visionare gli impianti e le strutture che giudicano però tutte a posto chiudiamo con la pagina di Fano invece sempre del messaggero eccola qua l'esippo braccio di ferro infinito e ora spunta un altro fascicolo ieri in tribunale la prima udienza pubblica ma erano presenti solo gli addetti ai lavori fra i presenti c'erano anche c'era anche Alberto Berardi che con le cento città si è sempre battuto per la restituzione di quest'opera trafugata e che è finita appunto negli Stati Uniti sopra invece vedete il PM sostituto procuratore sull'attesilvia Cecchi poi sempre dal messaggero per chiudere questa bella notizia di Greta che ha otto anni questa bella bambina che ha otto anni è già una scrittrice da best seller la sua opera prima si intitola Il compleanno perfetto presto verrà presentata ufficialmente ed è tutto grazie per aver seguito Occhio ai giornali ci rivediamo questa sera alle 20.30 con Occhio alla notizia vi ricordo che subito dopo ci sarà l'appuntamento con la seconda puntata di Missione Salute in diretta con il dottor Frausini con gli ospiti che parleranno di Ictus quindi un appuntamento interessante di medicina è tutto buona giornata grazie a tutti grazie a tutti